Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, roccaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la valle del Misandir, mi sono recato personalmente nel mercato locale dove mi sono stati suggeriti due prodotti che vi torneranno utili per mettere ordine tra le carte in vostro possesso. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia i Flex e Seismorph Card Vider di casa Gamegenic. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto. Torniamo al video. Di divisori ne ho utilizzati molti durante gli anni passati ed una cosa mi è sempre stata stretta. Per me che utilizzo deck box sviluppati in verticale la loro presenza risultava pressoché nulla. Sì, c'erano e creavano uno stacco a livello visivo comodo, ma nella pratica non agevolavano affatto il recupero di determinati deck che volevo giocare. E quindi mi ritrovavo in continuazione a dover sfogliare, come se fosse un catalogo, le ultime carte di un mazzo per poi estrarlo dal deck box. Ma il più delle volte questa pratica risultava controproducente, soprattutto per il fatto che, succedeva, una o due carte restavano nel portamazzo e mi accorgevo della loro mancanza una volta terminata la sessione ludica. Stessa storia quando adoperavo degli accessori sviluppati in orizzontale. Praticamente, una volta inserito il divider tra i deck, se avevo grimori con bustine identiche, questo spariva senza lasciare traccia. Perciò sono arrivato alla conclusione che sleeve con colorazioni diverse rappresentassero la soluzione definitiva, ma ciò voleva dire anche finanze e spese per acquistare più articoli della stessa categoria. Già stavo mettendo mano al portafoglio rassegnato all'idea di ordinare da Fantasia Store, link in descrizione, una miriade di colori diversi atti a proteggere e differenziare le carte che avevo in mio possesso, fino a quando, dalla Gamegenic, non hanno ideato un paio di accessori che hanno risposto a tutte le esigenze che avevo. Infatti, con i Flex Card Vider sono tornato a riutilizzare ogni singola sleeve di cui già ero fornito, grazie alla loro struttura pensata appositamente per segnare un confine netto tra un mazzo e l'altro. In stile minimale, questi articoli rappresenteranno unicamente il nome della casa produttrice, in basso a sinistra, su sfondo a tinta unita, sulla parte frontale. Possedendo due segmenti ben distinti che potranno essere curvati all'occorrenza, avrete la possibilità di utilizzarli, sia con deck box sviluppati in verticale, flettendo la linguetta presente sul lato corto del divisore, che in orizzontale, usufruendo anche dell'altra parte pieghevole, quella presente sul lato lungo, avendo così sempre a portata di mano, sia in un caso che nell'altro, gli archetipi che desidererete utilizzare in partita. Realizzati in polipropilene resistente e senza acidi nei PVC, inchiostrabili attraverso l'utilizzo di appositi pennelli, i Flex Card Vider saranno disponibili in mercato ad un prezzo indicativo di 3 euro e potranno essere reperiti a pacchi da 10 unità, ciascuna con un colore differente. Ma se credete che l'innovazione della Gengenic sia finita qui, vi invito a ricredervi. Infatti, durante la campagna Kickstarter, che ha visto il deckbox del professore del Tolarian Community College prendere vita, un nuovo prototipo di divisore ha fatto la sua comparsa, attraendo l'attenzione di moltissimi curiosi. Il Seismorph è esula dalla tradizionale struttura che di solito caratterizza un divisore classico. Infatti, qui ne saranno presenti due, divisi tra loro da uno strato di schiuma simil gomma piuma. Di fatto, questo accessorio letteralmente si adatterà allo spazio disponibile all'interno di un deckbox, cambiando il suo spessore. Anche qui, in stile minimale, il size terrà ben saldi i vostri deck, soprattutto se ne utilizzerete uno solo all'interno di un portacarte, accomodando le sue misure a seconda della presenza di un eventuale side da utilizzare tra un match e l'altro, o se vorrete usufruire di un altro mazzo, magari appartenente ad un TCG diverso da quello che siete abituati a giocare. Unica pecca non sarà molto pratico se utilizzato in un deckbox sviluppato per orizzontale, dove andrà a svolgere lo stesso identico lavoro dei concorrenti, creando più intralcio che altro. Quindi magari con l'introduzione, anche qui, di una linguetta sviluppata sul lato lungo, si avrà a tutti gli effetti il divisore definitivo. Disponibile in otto colorazioni differenti, costruito allo stesso modo del fratello minore appena visto ed inchiostrabile come lui, il size morph potrà essere reperito in mercato singolarmente ad un prezzo indicativo di 5 euro. Di sicuro, quando ho iniziato ad utilizzarli, ho esclamato, finalmente, dei divisori che dividono davvero. E, a parte gli appunti espressi per il morph, questi due accessori rappresenteranno per tutti coloro che vorranno servirsene degli alleati preziosissimi per recuperare all'istante ed in modo più che agevole gli arsenali a propria disposizione. Prima di concludere, volevo ringraziare la Gamegenic in persona che ha gentilmente fornito gli articoli trattati in questo contenuto. Come sempre, vi lascerò ogni link in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!